Ciao ragazzi, oggi vi presento un nuovo brano di un gruppo rock famoso in tutto il mondo, anzi direi uno dei più famosi. Sto parlando dei Rolling Stones, è un progetto che sto facendo con la mia scuola e quindi spero che vi possa piacere e che lo possiate usare anche voi. Sto parlando di un brano che si chiama Ruby to Ice Day, è un brano abbastanza semplice e molto flautistico e quindi spero che vi piaccia e dopo la mia esecuzione, come sempre, troverete lo spartito e la base musicale. Buon lavoro a tutti, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!